ma non lo chiami non lo chiamo lei lo nomina sempre guardi quando parliamo del demone mi vengono i brividi allora sarà io ho preso sarà demone sarà allora c'è la candela da fare e mf e poi sfuggire al fantasmi certo io aspetto e intanto gli faccio le foto e qui piove ovviamente quando mai ovviamente quando mai in questi campi in due ore sempre allora comincio da questa tenda io accenderei le luci senza portata la foto schioppa prima piove quindi che vedo ok qua non si muove nulla occhio si vede l'osso per cortesia e ci tengo molto e beh qui c'è una tenda che si muove lenne dove normale qua dove sto io poi sento dei botti aspetti che arrivo guardi qua e sarà il vento anche io sento effettivamente sento dei botti vado al gabicesso a controllare visto che è sempre qua il fantasma no nessun osso ogni volta che c'è il tuono mi lagga il gioco ma io veramente è qui qualcosina si è mosso però poco poco eccolo dove è qui ha tirato la palla ok oh sì la nuvoletta è qui ha tirato un sacco di roba anche la lattina si è arrabbiato dove sta secondo del secondo me è qua nella sì dove eccolo guarda c'è qui esatto come metto verso qua allora eccolo qua da questa parte guarda qui è andato a quattro allora vediamo anche il il microfono mi sta tirando roba proprio ma vediamo se non è l'ottimo a vedere sì perché non ho portato né o non sa poco ma niente però non parla timido è bello quando hanno l'ho visto noi in effetti non non è bello quando è qua eccolo aspetta eccolo 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 qua sì proprio qua aspetta questa zona vicino al falò ok allora questo lo butto sì quella bisogna spostarlo un po più in qua bisognerà spegnere poi la luce dopo andiamo vediamo un po un attimo prendiamo altre cose come stiamo di sanità siamo a posto io l'ho anche sentito ma non ha fatto niente faccia allora allora candela che non so come cavolo metteremo lì visto che piove sfera sfera c'è la sfera bene sfera sfera vicino i bidoni sfera ottimo metto la sera allora spera le mf non era cinque sta più verso i bidoni la sfera quindi che sta più verso il cancello vena verso i bidoni e già è vero invece l'ho sentito dall'altra parte opposta da qua secondo me sta in quella venda quanti indirlo non ho quella venda speriamo che non siano i gemelli vabbè tanto devo portare solo questa per adesso perché non write on the books allora proviamo a metterla qua no è non me l'accende la candela ah no me lo stai accendendo come dice stati la roba no non me l'accende porca miseria qui me l'accendi grazie e allora la metto qua speriamo che vada bene perché sennò come cavolo la otteniamo sta prova vabbè vediamo un po vado un attimo si a buttare via questo non sono messo avere schioppa da un'altra parte non so che cosa sta prendendo adesso eh prendiamone un altro dai la teleschio vabbè ma tanto adesso serve solo il dots la telesferica non ci serve più a niente no vero allora voglio prendere però il termosifone ok adesso la sposto brighton the book please la temperatura scende indovina come vertiginosamente per caso esatto dai che c'è la pulenza però sta qua davanti a me si è qua è proprio in giro da queste parti aspetta voglio spostare ah la stai sposta tu no ho sposto ho messo solo il dots la vorrei mettere qua oh guarda ci stanno le impronte len si e come si vedono no fallo è il dots e no è il dots l'ho messo ovunque vabbè qua ci sta il libro e che poi puoi spostare il libro aspetta non ci rimane occupate io si ah ha suonato la chitarra non so andiamo a vedere un po' si andiamo a vedere un attimo ah ha spento le luci guarda si stava preparando ma va l'infame perché è appena finito il tempo mi sa il libro l'hai messo tu si si ok come stiamo e adesso prenderei la pastiglietta oh il dots si è visto pure si si ma figata quante prove che ci sta dando no quanta perché è fighissimo è la prima volta che vedo da quando ci abbiamo la strumentazione nuova guarda hai visto si si il fantasma che passa nel dots è la prima volta non so mi sembra che leviti ma capito come dici non so mi sembra quindi forse vorrebbe la pena di comprare altri dots perché secondo me i dots li devi mettere in più cioè da punti diversi ma questi qua poi si mamma mia non passa più voglio vederlo ancora è velocissima poi eh e comunque si sta si sta muovendo quindi adesso adesso mi sa che è un po' arrabbiata speriamo che avere la sanità alta ci aiuti dunque sono rimasti la banshee potrebbe essere la banshee lo yurei non ha calutato eh parlava e basta lo yukai si arrabbia se gli parli vicino quindi si potrebbe provare a vedere eh però non vorrei farlo arrabbiare vediamo le non so proprio dove sta il libro adesso andiamo a guardare tu prendi la pastiglia ok ah la candela l'ha spenta perfetto e che altro si può fare mettiamo il sale proviamo a mettere un po' di sale è che consumare sta roba mi dispiace perché oddio pensavo che era lei invece eri tu allora sul libro non ha scritto e il termometro non è sceso vertiginosamente che peccato vediamo se ci sono impronte allora dobbiamo usare è che qua non so dove le può fare l'impronte qua non c'è niente per farle impronte dobbiamo usare è qui sulla guitarra aspetta che guarda la spirit box è l'unica eh mi sa che l'unica che è rimasta sia la spirit box aspetta che spingo eh ma era già spinta la luce che c'è? ah mi sembrava di aver sentito cantare oh fuck scappa scappa ma non ha chiuso no però mi sa che ci ha pensato ah sicuro come siamo messi eh no siamo messi bene infatti proviamo a mettere il sale dai non credo che possa ucciderci con la sanità così alta io mettere il sale qua uno e due ecco è già passata no dove? no ancora no no direi che con le con le impronte non c'è speranza non mi pare proprio che ci sia sicuro che non è sceso qui il termostato? eh quando l'ho guardato io no ma neanche le impronte però eh se hai ragione che levita il breath ma ma non è rimasto come in che senso non è rimasto tra i ah non c'è ah pensavo di averlo visto mettendo il dozzo cavoli le sfere non c'è il breath allora passa sul sale così ci togliamo il pensiero su ecco l'hai visto? si camminava a quattro zampe ma che brutta roba eh ma sul sale non è passato però eh no no ma bellissimo questa cosa è la prima volta eh si ogni tanto ne fanno una nuova cioè quando abbiamo questa attrezzatura almeno te uh ancora ecco ancora mi ho fatto la foto mi sa se è matto di solito funzionano le foto nel dots dovrebbe dartela fantasma yeah si oh festeggiamo finalmente andiamo andiamo su a raccogliere le idee almeno vediamo anche se la sanità è buona non la fa scendere tanto farei la spirit box a questo punto perché secondo me è l'unica cosa che rimane vediamo allora se fosse la spirit box sarebbe lo yokai che potrebbe essere una buona idea temperatura libro eh potrebbe essere tutto perfino l'MF potrebbe essere un libro non ha scritto però eh no infatti potrebbe essere qualunque oh se passa di nuovo io gli farei un'altra foto eh sì allora eccola sei qui ah è passata sul sale ottimo eh mi sembra giusto aspetta che mi metto qua no non flickerare la luce sei qui quanti anni hai sei uno yokai demone what what oh oddio tu non hai idea di che cosa ho sentito ma era una voce da uomo ma è Sara come vuoi essi no ma non ci comunque la spirit box ha funzionato è come è uno yokai e quando glielo ho chiesto si vede che si è arrabbiato oddio poi sentirai allora aspetta un attimo aspetta un attimo fammi vedere un attimo allora finalmente ho provato il fantasma e io ne ho fatte due cioè ci hanno ci hanno funzionato le attrezzature in un modo incredibile a sto giro eh guarda fantasma eccolo qua sì è uno solo però io ne ho fatte due la seconda non mi ha dato vabbè pensa che la seconda no l'osso non l'abbiamo trovato però via vado e retro mamma mia sedamo sì sì mi devono dare un premio però ma no guarda un'altra allora è ritornato praticamente sul sul suo sul suo posto oh yokai è ritornato sul suo posto una delle boccette di di succo quello che beviamo per ma benza un po' ed è ritornata lì da da sotto sembra un fantasma che l'ha messo a posto bene molto bene bene